Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale Conferenza Stampa, questa mattina dei vertici Asrem sul tema delle liste d'attesa. A fare il punto il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Giovanni Di Santo che ha rivendicato il lavoro svolto in un anno. Siamo una regione virtuosa, ha detto dopo aver elencato una serie di dati, i tempi di attesa si sono ridotti e abbiamo speso il 60% delle risorse che ci sono state assegnate, ha dichiarato Pasquale Di Bello. È stata una conferenza stampa fiume quella che hanno tenuto questa mattina nella sede di via Ugo Petrella Campobasso i vertici dell'azienda sanitaria regionale. Il direttore generale dell'Asrem Giovanni Di Santo, accompagnato da quello sanitario Bruno Carabellese e da quello amministrativo Grazia Matarante, ha fatto il punto su quello che dopo la trasmissione di Rete 4 fuori dal coro è diventato l'argomento che ha catalizzato l'attenzione degli operatori e dei cittadini, quello delle liste di attesa e soprattutto della loro riduzione. Dalla stampa nazionale ha esordito il direttore generale, sono state dette falsità. Le liste di attesa sono alla ribalta dei media in tutta Italia e quindi anche in Molise, però posso affermare con certezza e lo vedremo in questa conferenza stampa, che il Molise è tra le regioni sicuramente più virtuose d'Italia. C'è stata una falsità nelle comunicazioni, soprattutto da parte delle reti nazionali, che hanno voluto dare una importanza negativa al Molise. È toccato all'ingegnere Raffaele Malatesta, responsabile dei servizi informatici dell'ASREM, snocciolare numeri, date, cifre e tabelle per evidenziare il lavoro svolto nell'arco di un anno, ovvero dalla presa in carico della questione liste di attesa. Tempi ridotti, ha detto, mostrando una tabella per quasi tutte le 69 prestazioni previste dalla nomenclatura nazionale, messe a sistema tutte le agende mediche, circa 800. Nel rapporto tra i primi dieci mesi del 2023 e i primi del 2024, i tempi per eseguire una mammografia sono passati, ad esempio, da 255 a 88 giorni. Il direttore generale di Santo ha quindi precisato diverse delle questioni aperte, a partire dalla presenza o meno degli operatori privati nel CUP unico regionale. Cerchiamo di fare il punto allora sul lavoro fatto in un anno, i tempi di riduzione delle liste di attesa, le agende dei privati e soprattutto i privati sono o non sono nel CUP? Allora, immediatamente abbiamo visto e l'abbiamo constatato insieme, i privati sono all'interno del CUP, è stato visto. Per quanto riguarda invece il lavoro a lacre che è stato fatto davvero in maniera puntuale nel corso di un anno, ha dato i risultati che abbiamo potuto vedere. Siamo partiti da una situazione di difficoltà estrema, non avevamo agende, o meglio, si diceva che non c'erano visite in lista di attesa, per scoprirne poi forse 70.000 piuttosto che 80.000, ma quando poi siamo andati a fare un recall abbiamo visto che il tutto si avvicinava ad una cifra di circa 40.000 prestazioni. Sono state chiamate tutte queste persone, sono state messe in atto una serie di strategie che ci hanno portato al risultato che oggi avete potuto vedere. Venivamo da circa 300 agente autogestite, significa che il medico prenotava direttamente lui, siamo adesso a 800 agente che sono inserite all'interno del CUP. Esistono le liste d'attesa soprattutto in quelle specialistiche dove noi siamo carenti. Un'altra cosa importante, i soldi che noi abbiamo speso, non è il 2% per terminare, non è il 2%, abbiamo potuto vedere che noi delle risorse di cui ne avevamo bisogno abbiamo speso qui circa il 60%. Siamo una squadra che lavora insieme, ha voluto sottolineare di santo, regione, asrem, struttura, commissariale. Io ovviamente nella lealtà e nella trasparenza vado avanti secondo la mia strada e secondo la strada della giustizia, sempre in sintonia e in sinergia con la presidenza della regione, con la giunta regionale, la direzione salute e la struttura commissariale. Siamo una squadra e continuo a dirlo, siamo una squadra affiatata. Da segnalare che nel corso della conferenza stampa il direttore generale ha reso noto di aver subito, senza però precisare il tema, delle minacce prontamente denunciate. E sempre in materia di sanità c'è da segnalare oggi una notizia che arriva dal Consiglio regionale. L'Aula di Palazzo Daimmo ha bocciato una proposta di legge avanzata dal Movimento 5 Stelle e finalizzata l'istituzione di una commissione consigliare avente competenza in materia di sanità, con particolare riferimento ad appalti, contratti di accreditamento, attività dell'azienda sanitaria e gestione delle liste di attesa. La proposta è stata respinta a maggioranza. Le richieste delle opposizioni, gli esponenti di governo hanno obiettato la mancanza di una reale necessità di una commissione, poiché già esistono strumenti di sindacato ispettivo tra i poteri dei consiglieri. La cronaca 12 misure cautelari eseguite, 11 chili di droga sequestrati oltre 4.000 episodi di spaccio documentati in un quartiere popolare di Campobasso. Sono i numeri dell'operazione Drug Market 2, che questa mattina all'alba ha consentito di smantellare un traffico di stupefacenti che dalla Puglia riforniva alla città il servizio di Enzo Luongo. Un supermarket della droga ha aperto a Campobasso 24 ore su 24 a gestirlo un uomo del posto che riceveva i clienti in casa propria o in un bar. Più di 4.000 le cessioni di droga accertate durante le indagini. E' l'operazione Drug Market 2, che ha smantellato un sodalizio che portava la droga in Molise dalla Puglia. L'organizzazione era composta soprattutto da molisani, agiva in quartieri popolari della città. Con il blitz dei carabinieri scattato all'alba sono state 12 le persone destinatarie di misure cautelari, 5 in carcere, 2 ai domiciliari e infine 5 con il divieto di dimora in Molise. Le accuse a vario titolo sono quelle di associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio. I dettagli dell'operazione sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa dai vertici locali dei carabinieri e dal procuratore Nicola D'Angelo. Poco più di sei mesi la durata del lavoro dei militari. Un puntuale controllo del territorio poi consente questo cosiddetto vantaggio competitivo nelle investigazioni e con una breve penetrazione di soli sei mesi la compagnia, retta dal signor colonnello Carpenteri, ha disarticolato questo mercato della droga. Durante le indagini sono stati sequestrati 11 chili di droga tra cocaina, eroina e asci, scioltri a quasi 32 mila euro confiscati al fornitore pugliese degli stupefacenti. I campobassani spacciatori si rifornivano a Lucera ma la droga veniva consegnata loro a domicilio. In questa operazione in realtà veniva portata proprio, veniva spedita ed infatti ci sono stati ben cinque arresti in flagranza al netto delle misure cautelari di corrieri che portavano la droga a Campobasso. In altri casi sono giovani per lo più tossicodipendenti molisani che per potersi permettere l'uso delle sostanze stupefacenti si trasformano in piccoli spacciatori. All'operazione di stamattina che oltre a Campobasso ha riguardato anche Lucera, Brindisi e San Bartolomeo in Galdo hanno partecipato decine di militari, anche due unità speciali con i cani antidroga e un elicottero. 22 gli indagati mentre dalle indagini è anche emerso che l'organizzazione utilizzava per comunicare sugli smartphone una chat criptata. Il procuratore D'Angelo ha però esternato anche una delusione. Quando si arrestano delle persone, si arrestano dei giovani, credo che tutti abbiano un po' un senso di sofferenza insomma rispetto alla condizione di questi che adesso in questo momento vengono portati in carcere. La delusione cui faceva riferimento lei è legata a questo ma anche al fatto che dal 2018 con voi, con voi giornalisti e anche grazie agli avvocati abbiamo cercato di fare una guerra alla droga, abbiamo vinto tante battaglie ma la guerra la stiamo perdendo. Ed è un problema perché? Perché altre realtà, altre regioni hanno dei valori aggiunti che noi non abbiamo e quindi riuscire a controllare la droga e in generale la criminalità poteva essere quel qualcosa in più che aiuta questa regione a non morire. In questa indagine fondamentali sono state le intercettazioni, un tema di stretta attualità con il dibattito in corso sulle limitazioni al loro utilizzo. Tutte le indagini che abbiamo fatto in materia di droga con una normativa diversa, più stringente, non avremmo potuto utilizzare uno strumento fondamentale, quello delle intercettazioni, ma non solo, quello del captatore, quello di riuscire a bucare dei dispositivi fatti apposta per nascondere determinati fattori e via dicendo. Quindi naturalmente l'indagini non si fa solo con l'intercettazione, si fa con tanta attività alle spalle e inevitabilmente è come fare una guerra in cui ci vogliono i carri armati, gli aerei, le bombe e gli uomini sul terreno. Se ci si tolgono i carri armati, gli aerei e le bombe avremo solo gli uomini sul terreno, faranno qualche arresto in flagranza ma questo per le sue non si faranno più, in una maniera più assoluta. Una donna di 65 anni, Maria Rosaria D'Amico di Sant'Elia Appianisi, una collaboratrice scolastica nella scuola materna di Campolieto. Il figlio e il marito hanno segnalato la sua scomparsa ai carabinieri della compagnia di Larino. La donna non rispondeva al cellulare e sono stati allertati i vigili del fuoco dopo il tempo dalla denuncia. Da quanto risulta, la donna si sarebbe allontanata dopo il lavoro nel pomeriggio di ieri con la macchina Unalfa 147 scura. Le celle telefoniche hanno agganciato il segnale tra Santa Croce di Magliano e Montorio dei Frentani, dove si sono concentrate le ricerche che sono partite nel pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco utilizzano anche dei droni per la ricerca notturna. Disaggi e polemiche. Questa mattina a Campobasso per i ritardi nella riapertura dei serbatoi, il flusso idrico è tornato intorno alle 8 e non alle 5, come è previsto. Questo ha comportato problemi in moltissime zone della città, soprattutto per chi doveva andare a lavorare a scuola o per le attività commerciali e produttive. L'amministrazione comunale è pronta a un'azione legale contro Grimm e Moliseacque, ma sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Quella di oggi è stata una mattinata di disagi. A Campobasso l'acqua, in molte zone, è stata riattivata con circa tre ore di ritardo tra le sette e mezza e le otto, mentre l'orario comunicato era, come accade ormai da settimane, alle 5. Pesanti le difficoltà per chi, moltissimi in realtà in quella fascia oraria, esce di casa per andare a lavoro o a scuola o per le attività commerciali. Centinaia di messaggi di protesta sui social, dalle voci che circolano un dipendente di Moliseacque non sarebbe riuscito a riaprire in tempo i serbatoi interessati. Dalla stessa Moliseacque sono arrivate alcune puntualizzazioni. Il nostro compito, ha detto il presidente Stefano Sabatini, è di fornire acqua ai serbatoi Grimm. Ci ha chiesto un supporto nella gestione, con chiusura e apertura, di quelli di Cese Basso e Calvario. E con spirito solidaristico e per la città abbiamo messo a disposizione i nostri tecnici già oberati perché impegnati su altri 250 serbatoi su tutta la regione. Domenica, ha sottolineato Sabatini, ci è stato chiesto di occuparci anche di quello di Monforte. Ma abbiamo subito risposto che non saremmo stati in grado. La gestione dei serbatoi è ancora manuale. Nessun avviso, nessuna notizia, nessun aggiornamento da parte delle istituzioni, ha sottolineato l'ADOC, l'Associazione in Difesa dei Consumatori, in merito ai disagi di stamane. A ciò va aggiunto, ha continuato che né Grim, né Polizia Locale, né Comune di Campobasso erano raggiungibili per fornire aggiornamenti o spiegazioni ai cittadini giustamente infuriati. La situazione è diventata davvero insostenibile. Di fronte a un servizio universale, quale l'acqua pubblica pagata a caro prezzo, ha concluso ADOC, non è possibile ancora sostenere interruzioni senza alcun preavviso e senza alcuna spiegazione da parte delle istituzioni. L'Associazione e chiede a tutte le istituzioni pubbliche di predisporre sistemi di comunicazione più efficienti. Intanto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione Roberti e al consigliere delegato Massimo Sabusco. Per conoscere innanzitutto di chi sia la responsabilità dei problemi che si sono registrati questa mattina, per conoscere se c'è un rapporto di convenzione tra Molisiacque e Grim, come avviene per la città di Benevento, dove inspiegabilmente abbiamo ridotto la flusso idrico ma non ci risulta che ci siano state e ci siano delle interruzioni del flusso idrico durante la notte, cosa che avviene a Campobasso ormai da mesi. Conoscere anche la situazione debitoria con la regione Molise rispetto a Moliseacque, quindi sapere anche che cosa fa la regione Molise in questo frangente, oltre a mettere insieme, a far discutere appunto i soggetti coinvolti, vorremmo capire quando finirà questa situazione. L'amministrazione comunale di Campobasso, guidata dalla sindaca Forte, ha parlato di incompetenza e negligenza di Grim e Moliseacque, a causa delle quali i cittadini subiscono tali gravi disagi. Il Comune ha ribadito di essere parte lesa in questa vicenda e ha annunciato quindi l'intenzione di avviare un'azione legale contro Grim e Moliseacque per difendere i diritti dei cittadini e tutelarsi. Un'azione legale, si legge nella nota dell'amministrazione Forte, è necessaria affinché siano messi in atto sistemi di garanzia. Se un operatore non si sente bene, ha continuato, ci deve essere un altro pronto a sostituirlo immediatamente, evitando che la città resti senza acqua proprio quando la maggior parte delle persone si prepara per andare a scuola e a lavoro. Se c'è un problema di comunicazione, tutto deve essere comunicato in tempo utile. A conclusione, l'impegno a vigilare. Intanto Grim ha comunicato che anche stanotte a Campobasso dalle 23 fino alle 5 di domani saranno chiusi i serbatoi di Cese Basso, Cese Alto, Monforte, Calvario, Camposarcone, Tappino e Lama Bianca e mancherà dunque l'acqua. Sempre dalle 23 alle 5 saranno chiusi anche i serbatoi nei comuni di Baranello, Mirabello, Sannitico, Ripa, Limosani e Vinchiaturo. A Boiana invece chiusure dei serbatoi di San Giovanni, Civita Superiore e Monteverde dalle 22 di stasera alle 6 di domani. Presa di posizione unanime del Consiglio Comunale di Campobasso sul tema del dimensionamento scolastico a fronte degli indirizzi espressi dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal Comune Capoluogo viene espresso un secco no all'ipotesi di una nuova perdita di autonomia per un istituto cittadino dopo quella già subita dal PIL. La Sindaca Forte questa mattina ha tenuto anche una conferenza stampa per illustrare la posizione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Non è una levata di scudi, è qualcosa di più. È un vero e proprio muro quello che alza l'amministrazione comunale di Campobasso, maggioranza e opposizione unite contro l'ipotesi di ridimensionamento dell'autonomia scolastica a danno del parco scuole della città. In tale direzione si è espresso l'Ufficio Scolastico Regionale che ha inviato le proprie intenzioni alla provincia che a sua volta, a stretto giro di posta, ha interpellato il Comune chiedendo che in tempi stretti l'amministrazione si esprimesse. Detto fatto, dopo il ridimensionamento già subito con l'Istituto Pilla, adesso arriva il no secco dell'amministrazione. Una delibera che approveremo sia maggioranza che opposizione a difesa delle scuole di Campobasso. Il dimensionamento l'anno scorso ha riguardato una sola scuola e proprio sul Comune di Campobasso. Quindi noi chiediamo che Campobasso questa volta non paghi di nuovo un prezzo del dimensionamento e quindi chiediamo la salvaguardia di tutti gli istituti che sono presenti sul territorio del Comune di Campobasso. Ecco, quali sono le prerogative di una scuola che mantiene l'autonomia? Ma non sono tanto le prerogative della scuola che mantiene l'autonomia. È che appunto un dirigente scolastico che già ha diversi plessi aggiunge altri plessi e quindi diventa l'organizzazione, la gestione diventa più complicata, più complessa. Quella guidata da Maria Luisa Forte è un'amministrazione vivace quanto a scambi dialettici tra maggioranza e opposizione, ma in questo caso si registra un coro unanime di voci. Beh, si è avvertita la resistenza proprio in virtù di questo tipo di discorso che insomma vede un certo dimensionamento, ridimensionamento delle autonomie e delle presidenze scolastiche sul nostro territorio a livello regionale. Si paventano due sulla provincia di Sernia e quattro su quella di Campobasso. Si è riscontrata la necessità e l'esigenza sia dalla maggioranza che dall'opposizione di avere un atto forte, per questo una proposta di delibera che voteremo, per fare in modo di tutelare il territorio campobassano, la città capoluogo di regione che già sul fronte del dimensionamento scolastico negli anni addietro ha pagato nell'ultimo anno con la suppressione dell'autonomia dell'Istituto Pilla ed oggi è necessario invece avere questa ferma posizione nei confronti prima della provincia che è l'organo deputato alla proposta di dimensionamento e poi la regione che è l'istituzione suprema sul quale poi dirà l'ultima. Mi auguro che ci sia da questi organi il massimo apprezzamento e la consapevolezza dell'esigenza del comune capoluogo di regione di salvaguardare il proprio territorio. L'Assemblea si espressa con una delibera di consiglio, quindi con un atto molto forte, votata all'unanimità con 26 voti, quelli dei presenti in aula. Si è presentato come un addetto della società idrica e un'anziana l'ha fatto entrare in casa. Si è però subito insospettita e con la figlia ha allertato i carabinieri di Isernia. Giunti sul posto i militari hanno raccolto la testimonianza delle donne in cerca di elementi utili all'identificazione del sedicente tecnico che nel frattempo si è rallontanato dall'abitazione. Fortunatamente non mancherebbe nulla ma sui social è diventato in poco tempo virale l'allarme. Oggi pomeriggio due squadre dei Vigili del Fuoco di Agnone sono intervenute sulla Trignina in territorio di Pietra Abbondante per una macchina in fiamme. All'arrivo dei soccorsi l'autovettura già era completamente avvolta dalle fiamme e leso il conducente che si era accorto dei problemi ed è subito uscito dalla macchina chiamando i soccorsi, probabile un guasto perché la vettura a gasolio si è incendiata mentre era in movimento. Disaggi e disservizi in tutta Italia a causa dello sciopero nazionale del personale viaggiante indetto da Trenitalia per la giornata di oggi dalle 9 alle 17. A Termoli questa mattina file di persone in stazione che si sono riversate in biglietteria per chiedere spiegazioni. Sentiamo Francesco Di Giacomo che è stato proprio in stazione a Termoli. Uno sciopero di 8 ore del servizio ferroviario. I sindacati del comparto hanno infatti proclamato l'agitazione nella giornata di ieri dopo l'accoltellamento di un capotreno avvenuto intorno alle 13 nella stazione di Rivarolo su di un treno regionale della linea Genova-Busalla. L'agitazione indetta tra gli altri da Filt CGL, Filt CISL e Wilt Trasporti coinvolge il personale ferroviario anche di Trenitalia. Questa mattina lei era partito da Barletta, il treno per la stazione di Milano Centrale a Termoli ha deciso di far scendere tutti i passeggeri. Questi disagi confermati in tutta Italia, lei cosa ne pensa al riguardo? Io penso che il personale viaggiante ha diritto di viaggiare in sicurezza e quindi sono solidale con loro per questa forma di lotta anche se sta creando disagi ai viaggiatori, perché non si può più sentire che del personale viaggiante viene accoltellato per un biglietto e il governo non fa niente, si riempie solo la bocca con vari decreti sicurezza ma alla fine della fiera non ha mai combinato niente di buono. Questa mattina partenza da Foggia, destinazione Milano. Purtroppo il treno ha deciso di fermarsi qui a Termoli e far scendere tutti i passeggeri. Per uno sciopero giusto, io sono d'accordo su questo sciopero perché ognuno è libero di fare quello che vuole, siamo in Italia, però come siamo scesi abbiamo avuto tanti disagi. Ci hanno fatto scendere con tutti i bagagli e poi abbiamo avuto il disservizio, disservizio nel senso che per esempio i servizi igienici erano a pagamento e mi sembra l'assistenza alle clientela è anche questo. Il problema è che in questi casi di emergenza ci deve essere l'assistenza. parlato con il capotreno, il capotreno ha detto che aspettavano disposizioni, disposizioni che fino adesso non sono, è rimasto tutto invariato. Quali sono le soluzioni che si prospettano a questo punto? Le soluzioni che stiamo aspettando, un treno delle 13? L'altro Frecciarossa che viene sempre da Lecce mi sembra, arriva all'1.13.20 ma non sappiamo come faremo questo viaggio, è un treno garantito che ci porta fino a Milano ma come viaggeremo non si sa. Sciopero nazionale del comparto ferroviario già annunciato anche per il 29 di novembre e che interesserà tutti i settori pubblici e privati. Questa mobilitazione di 24 ore avrà ripercussioni su scala nazionale colpendo sia i trasporti locali che quelli a lunga percorrenza. L'iniziativa sindacale punta a sollecitare una riforma strutturale che garantisca le migliori condizioni di lavoro e un'adeguata sicurezza per i dipendenti. E' distribuzione, ha annunciato una nuova interruzione dell'energia elettrica per domani dalle 9 alle 16 nel quartiere di Riovivo a Termoli. La sospensione interesserà diversi numeri civici di Riovivo e di via Rio Torto. Tante le preoccupazioni dei residenti per questa sospensione di molte ore che creerà sicuramente numerosi disagi proprio perché si tratta di un arco di tempo prolungato senza energia nelle abitazioni motivo per cui non si potrà usufruire di nessun servizio e questo ha già creato sin da oggi preoccupazione tra i numerosi residenti. Soltanto ieri un'altra interruzione aveva interessato nella stessa fascia oraria il quartiere di Contrada Colle della Torre. Ed Enel non rinuncia a Pizzone secondo il piano per il ripompaggio dell'acqua dall'invaso di Castel San Vincenzo a quello di Montagna Spaccata, una mega centrale idroelettrica che aveva scatenato enti e associazioni ambientaliste. La società ora ha risposto punto per punto a tutte le osservazioni presentate al Ministero dell'Ambiente. Se ci dice tutto Valeria Migliore. Enel non rinuncia a Pizzone 2, il progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica in prossimità del lago di Castel San Vincenzo. La società ha infatti risposto punto per punto a tutte le osservazioni presentate dai vari enti al Ministero dell'Ambiente al quale il coordinamento che si batte per il no aveva chiesto di dichiarare inammissibile il piano. Un documento di oltre 100 pagine in cui Enel ha illustrato le contradduzioni ai circa 50 pareri pervenuti dal Parco Nazionale, dai comuni interessati, dalla Regione, dal WWF e dalle varie associazioni su un progetto ritenuto insostenibile e fortemente impattante sull'ambiente che ha indignato il popolo molisano. Ma Enel non molla e non si ferma di fronte al piano per il ripompaggio dell'acqua dall'invaso di Castel San Vincenzo a quello di Montagna Spaccata. Al Parco la società ha infatti ribattuto che il tracciato è esterno ai suoi confini e che il conteggio delle aree da disboscare è stato sovrastimato. Anche alla Regione Enel ha risposto che il rilascio dell'autorizzazione ambientale sulla base delle motivazioni amministrative addotte, si legge, non è pertinente. Ha poi rimandato alle fasi successive l'esame sul possibile impatto dei campi elettromagnetici sugli edifici residenziali fatti notare dal comune di Pizzone. Al WWF ha invece obiettato che l'impatto ambientale dell'opera sulla base di valutazioni tecniche non è da considerarsi insostenibile in virtù delle scelte progettuali effettuate. Insomma, nessuno stop alla centrale idroelettrica. Ci si deve aspettare ora una nuova mobilitazione da parte del coordinamento No Pizzone 2 che si è battuto per il rispingimento definitivo e senza appelli da parte del Dicastero. L'Associazione Larino nel Cuore nelle scorse ore ha ufficializzato che per quest'anno, nel periodo natalizio, le luminarie di Larino non si accenderanno per responsabilità da imputare a vincoli imposti dalle locali istituzioni. Il sindaco Pino Puchetti ha spiegato che in un incontro su luminarie e presepe vivente l'amministrazione comunale ha confermato la completa disponibilità a realizzare i due eventi chiedendo alle due associazioni interessate di presentare il progetto con piano di sicurezza entro il 15 ottobre per concedere tutte le autorizzazioni necessarie. Il 28 ottobre, ha spiegato Puchetti, l'Associazione Larino del Cuore, che ancora non l'aveva fatta, è stata invitata a produrre la documentazione necessaria. Senza che nulla venisse contestato, ha comunicato che l'evento non sarebbe stato realizzato. Nessun vincolo dunque è stato imposto dall'amministrazione. Ha concluso Puchetti. Dopo 28 anni la stella Michelin è stata assegnata di nuovo a un ristorante molisano, la cerimonia di consegna dell'ambito riconoscimento a Modena e riconoscimento che è andato alla Locanda Mammy di Agnone della chef Stefania Di Pasquo. Sentiamo. Dopo 28 anni il Molise conquista la seconda stella Michelin della sua storia all'ambito riconoscimento gastronomico e è andato alla Locanda Mammy di Agnone della chef Stefania Di Pasquo. Chef che, emozionatissima e felice, ha indossato il camice stellato durante la cerimonia al Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. E non importa, alla fine, se la presentatrice, Giorgia Surina, ha anche sbagliato a pronunciare il nome della Locanda Agnonese, la sostanza non cambia. Locanda Mammy! Stefania Di Pasquo, Agnone, Isernia. Una stella che per la prima volta fu data a un ristorante molisano nel 1996 alla vecchia trattoria da Tonino, una vera e propria istituzione a Campobasso. Furono Aldo Casilli e la moglie, la compianta, talentuosa cuoca Maria Lombardi, la professoressa, come veniva chiamata, a portare la prestigiosa e ambita stella Michelin in Molise. Il locale è chiuso da anni ormai. Oggi un'altra donna, Stefania Di Pasquo, 41 anni, da Agnone, una formazione gastronomica nell'Accademia del Tristellato, Nico Romito, grazie ai suoi piatti può freggiarsi del riconoscimento. Insieme al compagno e sommelier, Thomas Torsiello, ha ristrutturato il vecchio casale di famiglia immerso nel verde dell'Alto Molise, creando la locanda Mammy. Una cucina, quella di Stefania, i cui ingredienti sono passione e prodotti della terra, con elaborazioni personalizzate della tradizione moderne senza snaturare. Filosofia del chilometro zero e cucina del ricordo. Thomas e Stefani hanno commentato su Facebook la stella Michelin conquistata. È stata un sogno a inizio del nostro percorso, poi hanno scritto crescendo si è trasformato in una costante fonte di stimoli. Oggi in realtà l'abbiamo portata in Molise ed è forse l'orgoglio più importante. Amiamo questa terra che esiste ed è viva. Hanno ringraziato staff, famiglia, clienti. Non sarà mai un traguardo, ma un nuovo inizio, hanno aggiunto. Un grande orgoglio, ha spiegato all'Agenzia ANSA, Stefania Di Pasquo, subito dopo la cerimonia a Modena. Sono 12 anni che lavoriamo su questo progetto ed è un'emozione grandissima soprattutto riportare la stella in Molise che mancava da tanti anni. Troppi. Finalmente ci siamo anche noi. All'affari tuoi, ieri sera protagonista Daniele De Lauro Poliziotto della scientifica di Campobasso ha partecipato alla trasmissione TV con La Compagna, partita fortunata per la coppia che alla fine, dopo aver scelto di sfidare la sorte con la regione fortunata, è tornata a casa con 100.000 euro individuando il Lazio grazie anche a un suggerimento che era arrivato dal loro amico Peppe, diventato poi protagonista del finale di puntata. Inaugurato a Pietracatella uno spazio di lettura dedicato ai più piccoli con letture e attività a cura dei volontari dinati per leggere Molise della libreria Risguardi. Promosso nell'ambito del progetto Pietracatella Legge intende promuovere i benefici della lettura condivisa. Stefano Ricci. Un nuovo Bibliopoint, il progetto che Pietracatella ha voluto dedicare alla promozione della lettura in paese, arriva a compimento. E allora, in ossequio al Dulcis in fundo, questa volta quello attivato è un punto di lettura che volontari dinati per leggere cureranno per i più piccoli del paese. Un progetto, quello di Bibliopoint, che arriva a compimento nella soddisfazione di tutti. La nostra grande gioia siamo venuti ad inaugurarlo, noi lettori volontari, perché siamo amanti della lettura, curiamo questo programma per i genitori, abbiamo potuto parlare con loro, mentre i bambini si sono goduti delle storie insieme ai lettori. Speriamo che questa esperienza di Pietracatella sia eseguita anche da altri paesi. Di aver incontrato con i volontari dinati per leggere i genitori, le insegnanti che presideranno questo punto lettura e che saranno un riferimento per il territorio, perché è importante che ci siano delle persone qui sul territorio che diano continuità a questi progetti. Ringraziare per Pietracatella Legge, soprattutto il CEPER, il Ministero della Cultura che ci ha finanziato, ma in prima battuta risguardi che ci ha seguito in tutto e per tutto, insieme all'Associazione Muse che ha attuato in parte anche questo progetto. La comunità di Pietracatella è sempre contenta e risponde in maniera veramente forte al richiamo del libro e della lettura in tutte le sue forme. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e arrivederci.